Sul fatto che la cucina emiliano-romagnola fosse tra le più apprezzate d'Italia, i dubbi erano già pochi. Ora arrivano importanti riconoscimenti anche per i prodotti regionali più pregiati. Il rapporto Ismea-Quali Vita, appena pubblicato, sottolinea infatti l'ennesima prova dell'eccellenza enogastronomica regionale. I prodotti certificati IGP, DOP e STG a maggior ritorno economico, cioè quelli più acquistati e diffusi, sono grana padano e parmigiano reggiano, ma anche prosciutto di Parma, aceto balsamico di Modena, mortadella di Bologna e via di seguito. Per quanto riguarda la numerica a livello territoriale, le regioni con maggior numero di certificazioni sono il Veneto e la Toscana con 90 prodotti, il Piemonte con 81, la Lombardia con 77 e appunto l'Emilia-Romagna con 73. In generale, il mercato dei prodotti d'eccellenza italiani, certificati in base al metodo e alla provenienza, non conosce davvero crisi. Il valore della produzione food and wine ha raggiunto nel paese i 13,4 miliardi di euro, con una crescita del 4% su base annua e un peso del 10% sul fatturato totale dell'industria agroalimentare. Ma se la richiesta delle delizie italiane cresce, soprattutto all'estero, aumentano anche i casi di contraffazione. I prodotti DOP e IGP dell'Emilia-Romagna sono infatti tra i più imitati al mondo. Nel 2014, l'Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei Prodotti Agroalimentari ha effettuato 60 segnalazioni in tutta Europa su pratiche imitative di DOP e IGP italiani, di cui ben 40 emiliano-romagnoli.